Eccolo. Ma chi è quello? Ma dovevi mai visto? Ma che fai? Accendi. Andiamo, dai! Stagli dietro, stagli dietro. Non li perdono, eh. Guarda che se entra in autostata non li prendiamo più, eh. Tagliagli la strada. Fai come dico io. Scendi con me. Adesso. Fermi. Polizia. Eugenio, fatti questo davanti. Asciutto. Scendi dalla macchina. Fammi vedere le mani. Avanti. C'è un errore. Quale errore? Stai pensando. Mi lascia spiegare. Proviamo a chiarire questa cosa. Sì, lascia spiegare. E questa? Come me la spieghi? Dobbiamo condurla all'aeroporto. Ah, sì? Perché che va in vacanza, va? No, viene espulso. Siamo dei servizi. È perché non ci hanno avvertito. Aspetta, posso? Ho qui il decreto di espulsione. Un accompagnamento immediato. Ma che fai, pigli per il culo? Manca la firma del giudice, manca. Non serve più. Ma che cazzo dici? È sempre servita, eh? È cambiata la legge. Luccio. Hanno ragione loro, non serve più.